A tutti voi buonasera dal Tg Max, è composto da un solo articolo la legge di riforma del servizio idrico integrato e prevede un solo ambito territoriale ottimale. La riforma è stata licenziata nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale. A pochi giorni dalla scadenza dei termini, fissata al 31 marzo, il Consiglio regionale ha licenziato la riforma del sistema idrico integrato. La legge è composta da un solo articolo che prevede un unico ato, ambito territoriale ottimale. Siamo partiti da due obiettivi, ha dichiarato il governatore Chiodi, una gestione pubblica dell'acqua e un sistema di investimenti che tenesse conto solo delle reali esigenze della comunità e non gonfiato, come accaduto finora, da deprecabili logiche politiche clientelari che determinavano tariffe sorbitanti e ingiustificate. Passiamo da quella che è una logica di frammentazione di potere, di piccolo potere, ad una visione invece generale che guardi solamente agli interessi dei cittadini, cioè cercare di fare degli investimenti alla tariffa migliore possibile per i cittadini, con costi di gestione contenuti. E per questo ci sarà un solo ente d'ambito che si occuperà in tutta la regione Abruzzo, rispetto ai sei precedenti, che ovviamente avevano una situazione, direi tutti quanti ormai lo sanno, assolutamente negativa sotto il profilo delle performance e anche dell'etica nella gestione della cosa pubblica. I sei enti d'ambito, come prevede la nuova legge, verranno liquidati successivamente alla Costituzione dell'ente d'ambito unico, la cui gestione sarà affidata ad un commissario nominato con decreto del Presidente della Giunta. In soli due anni che amministriamo, a tenuto a precisare Chiodi, abbiamo fatto più riforme che negli ultimi dieci anni. Noi in due anni abbiamo fatto molte più riforme che negli ultimi dieci, con un grandissimo senso di responsabilità. I consorzi industriali, per esempio, l'ente d'ambito unico, la sanità, c'è un nuovo modello organizzativo che ci sta mettendo all'attenzione nazionale per quanto riguarda i processi di risanamento, l'indebitamento degli abruzzesi che è diminuito con noi fortemente e questo significa dare una speranza alle future generazioni. La pagina sindacale, cassa integrazione per 24 mesi e mobilità volontaria. Dopo una riunione in fiume presso la Confindustria di Pescara, sindacati e rappresentanti della Bianchi Vending di Città Sant'Angelo hanno raggiunto un accordo stamattina e 76 lavoratori hanno scioperato per chiedere la riapertura del piano industriale. Produzione bloccata questa mattina nello stabilimento della Bianchi Vending Group, azienda bergamasca produttrice di distributori automatici per bevande e snack con stabilimento a Città Sant'Angelo. I 76 lavoratori sono tornati a scioperare chiedendo la riapertura del piano industriale. L'azienda aveva garantito la produzione fino al 30 giugno prossimo e oggi avrebbe dovuto esprimersi sulla richiesta dei lavoratori di incentivo all'esodo con cifre comprese tra i 9.000 e 13.000 euro. La riunione in fiume presso la Confindustria di Pescara, cui hanno partecipato il presidente del gruppo Eugenio Berenga e l'amministratore delegato Omero De Martin, si è chiusa nel pomeriggio con alcune proposte che lasciano aperto uno spiraglio sul futuro dello stabilimento e dei suoi dipendenti. L'apertura della procedura di cassa integrazione per 24 mesi per tutti i lavoratori e l'attivazione della mobilità volontaria. La richiesta dei sindacati sull'incentivo all'esodo è stata ridotta ad una cifra compresa tra i 5.700 e gli 8.600 euro netti. Le proposte saranno portate già domani all'attenzione dell'Assemblea sindacale di fabbrica mentre le parti torneranno ad incontrarsi il 1 aprile presso la sede provinciale di Confindustria. Un'ora di sciopero con corteo interno articolata nei tre turni di domani l'hanno proclamata i sindacati all'adenso di San Salvo. Le sigle di categoria sostengono in una nota che l'azienda non vorrebbe presentare il piano industriale a fronte probabilmente di un problema di esubero strutturale che l'adenso non vorrebbe discutere con i sindacati e risolvere. Vertenza Abruzzo Engineering dopo la sentenza del Tar dell'Aquila la Filcams CGL torna a chiedere al governatore Chiodi di attivarsi per garantire l'occupazione ai 194 dipendenti della società in house in cassa integrazione da due anni. Era stata la stessa società Abruzzo Engineering a ricorrere presso il tribunale amministrativo perché la regione le aveva negato l'affidamento diretto di una commessa da 200 milioni di euro ritenendo che non ve ne fossero le condizioni di legge e preferendo indire una gara d'appalto. La sentenza del Tar conferma lo status della società come interna alla struttura della regione quindi in house e per i sindacati si sarebbe potuto e dovuto procedere ad un affidamento diretto. Per questo Filcams CGL chiede che la regione si faccia carico del destino dei 194 lavoratori il cui futuro è sempre più incerto anche in considerazione delle continue dichiarazioni del presidente Chiodi in cui Abruzzo Engineering viene definito un carrozzone clientelare. Possiamo ascoltare la dichiarazione di Luca Ondifero, segretario regionale Filcams CGL. Riteniamo che a questo punto anche questa pronuncia del Tar debba necessariamente permettere al presidente Chiodi una volta per tutte di uscire da questo imbarazzo e da questa incertezza che va avanti ormai da anni e di affidare questi lavori affinché i 200 lavoratori possano una volta per tutte appunto continuare a lavorare o meglio iniziare a lavorare a fronte dell'alta professionalità che hanno ormai acquisito nel tempo. La società è in fase di liquidazione ma questo secondo il sindacato dei lavoratori del commercio, turismo e servizi della CGL non può essere considerato rilevante ai fini della necessità di non disperdere la professionalità dei 194 lavoratori attualmente in forza ad Abruzzo Engineering. Per cui riteniamo che se c'è il lavoro e il lavoro c'è, ci sono le professionalità e ci sono perché sono accertate si debba, al di là di quelli che sono gli aspetti societari di una società, fare in modo che questi lavoratori siano messi nelle condizioni di poter assolvere il loro impegno lavorativo. Voltiamo pagina. È stato arrestato il presunto rapinatore che lo scorso 4 marzo derubò armato di pistola una tabaccheria nel centro di Lanciano. Il bottino fu di 2000 euro. È stato arrestato dalla polizia di Lanciano il presunto autore della rapina del 4 marzo scorso perpetrata ai danni di una tabaccheria in pieno centro città. Mauro Renato Cupido, 23 anni di Lanciano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile della rapina e di un'altra tentata poco prima in una diversa tabaccheria di Lanciano. Gli agenti della polizia hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ieri dal GIP del Tribunale di Lanciano Francesca del Villano Aceto su richiesta del PM Rosaria Vecchi. Cupido si sarebbe fatto consegnare alcune migliaia di euro dopo aver minacciato di morte la titolare della tabaccheria di Viaferro di Cavallo con una pistola. Fondamentale per le indagini sono state le immagini del circuito di videosorveglianza installato proprio la mattina del 4 marzo. Nella paura della rapina, la fortuna di aver installato la videosorveglianza qualche ora prima? Sì, quella è stata la fortuna, perché se no la paura era stata tantissima. Tutto si è consumato nel giro di qualche secondo? Cinque minuti, nemmeno. Proprio è stata una cosa velocissima, cioè ha fatto prima lui entrare che ha riuscito. Poi ha minacciato con la pistola? E poi ha minacciato con la pistola, certo. Cupido è stato individuato grazie ad una serie di attività investigative del commissariato di polizia e alle testimonianze acquisite dalle quali è emerso che il rapinatore aveva un modo particolare di indossare i pantaloni stretti con una piega all'altezza della caviglia. Il vicequestore, Katia Basilico. Sia dalle immagini che dalle testimonianze è venuto fuori che il rapinatore indossava i pantaloni in un modo un po' particolare, nel senso che erano dei pantaloni larghi, però alla caviglia erano stretti in modo inusuale. Infatti il cupido, che in questi giorni è stato più volte osservato da noi, ha un modo di portare i pantaloni, cioè all'altezza della caviglia che appiega i pantaloni e li stringe con una spilla da balia. Durante la perquisizione è stato sequestrato il giubbino, che poi è quello che è un blu non normale, un blu un po' particolare, un po' più acceso, quindi giubbino lucido, e sono stati trovati i guanti utilizzati, le cui immagini si vedono dalle immagini della videosorveglianza. Le mandano sotto casa le pompe funebri e la guardia medica. Le molestie che una donna di Altino ha dovuto subire nei mesi di dicembre e gennaio non erano soltanto telefoniche. Nella denuncia che ha sporto ai carabinieri di Lanciano, la donna parla di continui squigli al telefono di casa e di servizi non richiesti, come l'arrivo delle pompe funebri e della guardia medica sotto casa. I militari hanno avviato delle indagini che hanno portato alla denuncia a piede libero di due donne, una 42enne residente ad Altino, Nubile e Casalinga, e una studentessa a 21enne di Altino. Non si conosce ancora il motivo di questo accanimento, ma i carabinieri ritengono si trattasse comunque di una burla. Evasione fiscale chiusa all'inchiesta relativa all'operazione della guardia di finanza Flying Money, che nell'ottobre scorso portò all'arresto di 13 persone. La procura di Pescara ha chiuso l'inchiesta relativa ad una maxi-evasione fiscale internazionale da 90 milioni di euro che il 21 ottobre scorso ha portato in carcere l'imprenditore del settore aereo Giuseppe Spadaccini. L'avviso di conclusione delle indagini è stato firmato dal PM di Serio, 18 in totale gli indagati, tra loro anche il notaio pescarese Massimo D'Ambrosio, il commercialista di Chieti Giacomo Bletter, il consulente fiscale Leonardo Valenti, l'avvocato Francesco Valentini. Sei posizioni di personaggi ritenuti minori sono state stralciate in attesa di archiviazione. Secondo l'accusa, Spadaccini sarebbe stato il promotore di un'operazione illecita consistente sostanzialmente nella creazione all'estero di false compagini societarie. Spadaccini avrebbe promosso e organizzato attraverso collaboratori italiani una fitta rete di società italiane e portoghesi che tra il 1999 e il 2008 avrebbero emesso ed utilizzato fatture per operazioni inesistenti per 30 milioni di euro. Un giro vorticoso di denaro a detta degli inquirenti al fine di sottrarre i ricavi delle società italiane al fisco creando fondi occulti all'estero. Nel corso delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Pescara sono stati sequestrati immobili, quote societarie, uno yacht e saldi attivi su conti correnti per quasi 12 milioni di euro. Quattro scarichi fognari non autorizzati che confluivano direttamente in fossi naturali inquinando le acque superficiali. Le hanno scoperti gli agenti della forestale di Casuli nel comune di Gessopalena. Gli scarichi provenivano da tratti di rete fognaria urbana e riversavano in acque superficiali di altrettanti fossi naturali senza alcun trattamento preventivo non essendovi impianti di depurazione. Di quanto riscontrato è stata ritenuta responsabile la società che ha in gestione il servizio idrico integrato del comune di Gessopalena, la Sassia SPA, alla quale sono state contestate sanzioni amministrative comprese tra 33 mila e 330 mila euro. È da rilevare che nonostante la gestione della rete fognaria comunale avvenga senza alcuna depurazione, si legge in una nota della forestale, la società di gestione ha sempre riscosso i canoni di depurazione dai cittadini di Gessopalena, innestando con loro un contenzioso ancora in corso. La giunta regionale ha istituito il tavolo di coordinamento del Parco Nazionale della Costa Teatina presiduto dall'assessore Febbo. Il nuovo organismo coordinerà il lavoro degli enti locali coinvolti allo scopo di rispondere al meglio alle esigenze delle forze produttive, degli operatori turistici e dei cittadini. Il Parco Nazionale della Costa Teatina, per quanto importante e positiva sia la sua istituzione, rappresenta uno spazio attrezzato che va regolamentato nei contenuti e nell'individuazione dei confini. Lo ha dichiarato l'assessore all'agricoltura Mauro Febbo dopo l'approvazione e la costituzione con delibera di giunta regionale del tavolo di coordinamento del Parco Nazionale della Costa Teatina. Del nuovo organismo presiduto dallo stesso assessore Febbo fanno parte l'assessore all'ambiente Gianfranco Giuliante, il presidente della provincia di Chieti e i sindaci dei comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossa Cesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Basto e San Salvo. Il coordinamento nasce con la volontà di creare una sinergia tra enti locali allo scopo di rispondere al meglio alle esigenze delle forze produttive, degli operatori turistici e dei cittadini. L'obiettivo è raggiungere una proposta condivisa relativa ai confini e alle norme di regolamentazione con l'intento di sviluppare e incrementare un turismo ed un'economia che crescano soprattutto grazie alle ricchezze di questo territorio. La regione Abruzzo, dichiara Febbo, da oltre un decennio ha individuato questa fascia costiera come area soggetta a vincolo idrogeologico e meritevole di valorizzazione ambientalistica nella redazione del piano regionale paesistico. Si tratta di un territorio densamente abitato che esprime problematiche complesse sostanzialmente diverse da quelle esistente nei parchi e delle zone montane in larga parte costituite da vaste aree boschive con insediamenti circoscritti. E se l'arretramento della ferrovia, aggiunge Febbo, poteva scatenare pericolosi appetiti speculativi difficilmente frenabili, è evidente che il parco acquista anche un'efficace funzione di salvaguardia contro la cementificazione e di controllo del territorio. Spetta quindi alla regione, alla provincia e agli enti locali, attraverso le istituzioni di questo tavolo, definire i confini e la perimetrazione entro i quali elaborare progetti concreti. Il prossimo passo, ha concluso l'assessore, sarà quello di avviare un dibattito tra enti per decidere del futuro del nascente parco, con regole snelle e non restrittive ma efficaci per il rilancio del turismo che rappresenta un volano di crescita per la fascia costiera. E siamo alla pagina sportiva per il calcio, in Serie B il Pescara perde contro il Modena, in Lega Pro i lanciano pareggia con l'ultima in classifica e si allontana dai play-off. Bene l'Aquila e Giulianova, pari esterno per il Chieti Tonfo del Celano, in Serie D e crisi per il Teramo. Disco rosso per il Delfino, pari e patta per la Virtus, due successi, un segno X, una sconfitta in seconda divisione, sempre peggio per la Serie D il Teramo. La domenica delle Abruzzesi sorride dunque pienamente solo all'Aquila e Giulianova con la crisi che arriva dalla Serie B. Il Pescara infatti cade anche a Modena, mette poco o nulla in campo, colleziona l'ennesima battuta d'arresto lontano dall'Adriatico in un solo punto nelle ultime cinque partite. Il Modena ringrazia e aggancia i bianco-azzurri a quota 42, d'ora in avanti bisognerà guardarsi alle spalle e sabato arriva il Crotone. In prima divisione l'ultima spiaggia a Virtusina si risolve con un pareggio 0-0. A Cava dei Tirreni contro l'ultima della classe i rossonieri sbagliano un rigore con Di Gennaro, poi non hanno forza per conquistare i tre punti della speranza e nel finale i campani sbagliano anche loro un penalty. Il Taranto a sua volta batte la nocerina e si porta a più cinque rispetto a Di Cecco e Compagni, campionato a meno di clamorosi colpi di scena, ormai segnato nel più classico dell'anonimato. In seconda, colpo in trasferta per l'Aquila nel giorno del debutto sulla panchina del tecnico Ianni, un gol di Carcione, stende il crociati. Nel primo tempo credo che abbiamo fatto, ci siamo espressi molto bene sotto il profilo del gioco, abbiamo avuto credo 4-5 occasioni importanti nel primo tempo. Poi nel secondo vuoi il vento, vuoi che è salito un po' il nervosismo, visto che vogliamo tutti i costi uscire da questa situazione negativa. Qualche difficoltà in più sinceramente l'abbiamo avuta. Poi l'espulsione ci ha un pochettino agevolato, il gol su punizione ha indirizzato la partita a nostro favore. Il Chieti si morde le mani con un 2-2 sul terreno della San Giovannese che sa di beffa. I locali infatti pareggiano all'ultimo istante. Tutto facile per il Giulianova che con un roboante 4-1 spintona il Fano e si avvicina al traguardo della salvezza. Incredibile Celano che sul campo dell'ormai retrocesso villacidrese riesce a perdere per 3-0. In Serie D, copertina in negativo per il Teramo che perde in casa contro il Rimini nel big match e saluta il sogno promozione a meno 5 dalla vita. La situazione è quella che è, è inutile girarci intorno, bisogna verificare un po' tutto e vedere quali sono i problemi che ha questa squadra. Si attende qualche decisione dalla parte della società, farà lei un passo? Non so, parlo con loro e vediamo. Pareggio alla Tessa Valdisangro, vincono Sant'Egidiese e Luco Canistro al tappeto angolana e miglianico. E tutto vi lascio al Meteomax, a seguire l'appuntamento con Passione Calcio 30 minuti e poi il consulto appuntamento del lunedì con E-Gol. Grazie per essere rimasti con noi, arrivederci a domani. Grazie per aver guardato il video.